buongiorno ragazzi questo è un canale libero che non lecca e sedere a nessuno e che dice sempre quello che pensa quindi per chi volesse sostenere gratis il canale iscrizione e campanellina altrimenti va bene non lo stesso non siete obbligati vedo che nella notte crescono iscritti si rispondono i profili fake da soli stop al dissing e poi continua a rompere le scatole offendendo delle persone che sono con me lui che spaccia ha capito il parente per esperto di mercato e Nino Melodia che si è adoperato al telefono a chiamare a destra e manca gente per farla andare in live e tutti gli dicono no ti diano tutti i nonni non me lo dia perché mi stanno invitando tutti voi siete finiti ormai su youtube andremo ma non siete mai esistiti Nino Melodia trovatevi un lavoro serio tutto l'anno andate a lavorare andate a lavorare non esiste più campare così senza fare nulla bisogna lavorare nella vita bisogna cercare soddisfazioni lavorando duramente seriamente basta campare sparando le puntanate la repubblica stamattina dice a parte no prima della repubblica voglio parlare di quell'altro fuori l'asse a pagamento lì dell'informazione quello che ormai non si vede più nei campi a fare le interviste no che diceva che la superlega era salva zanghe gravina attacco durissimo chi partecipa alla superlega fuori dalla serie a chi partecipa alla superlega fuori dalla serie a il fuoriclasse dell'informazione a pagamento turkish air lines bertarelli lasri rana dive digital beats tutto a posto fuoriclasse ora è tornato amico è tornato amico di giuseppe bianconero ora sono tornati amici infatti giuseppe bianconero cosa cosa ha detto ai suoi utenti giuseppe bianconero iscrivetevi al canale di quello è offeso per due anni e andate a iscrivervi al canale ora perché poi gli utenti sono rimasti a parte questo parliamo di cose serie la repubblica stamattina dice che zangha il futuro entro febbraio perché proverà in tutti i modi a rifinanziarli noi siamo sempre della stessa idea che zangha non rifinanzierà nulla anche perché poi la stessa repubblica dice ci sarebbe un tasso minimo del 20 per cento cioè del 20 per cento sarebbe una roba insostenibile cosa vuol dire vuol dire l'inter pagherebbe circa 70 milioni all'anno di interessi mentre i debiti continuano a crescere quindi non è assolutissimamente sostenibile quindi per noi non ci sarà nessuno di finanziamento lo diciamo da due anni continuiamo su quell'onda lì tra l'altro domani sera ci sarà una live effenberg avvocato pierre e molto probabilmente se ce la fa anche alessandro g dove hanno commentato tutti i bilanci i numeri ora tocca a noi noi con educazione abbiamo ascoltato tutti ora con educazione gli altri ascolteranno noi quindi un'altra cosa a cui ci tengo eh che me l'hanno anche chiesto non è stato fatto nessun passaggio di vuoto e questi vorrebbero il nome di Zhang sulla visura camerale la vera evidenza sulla visura camerale sono i pegni perché l'azionista che controlla l'Inter e Grand Tower questi non sanno nulla questi vogliono i bilanci di Grand Tower nella visura camerale dell'Inter pensa come sono preparati più vorrebbero anche il nome di Zhang non hanno capito che è il Grand Tower che comanda l'Inter questi non sanno nulla vi stanno riempendo di fandonie per quei quattro gatti che ancora guardano quella robaccia non esiste nessun passaggio di azioni magari ci sarebbe stato sarei il primo a stappare io lo sapete benissimo sulla visura compaiono pen di carta e penna e scrivi perché sulla visura compaiono i nomi degli azionisti della società e nel caso dell'Inter chi detiene la maggioranza è il Grand Tower che è una società lussemburghese non c'entra nulla il nome di Zhang sulla visura camerale voi siete ridicoli diverso invece è il caso dei pegni quello è un discorso diverso perché gravano direttamente sull'Inter scusate e quindi compare ancora il nome dei creditori pignoratizi ovvero sia gas trust e optri spero di averlo spiegato nella maniera più semplice possibile chiunque con la visura camerale dell'Inter può vedere che non esiste nessun passaggio di azioni e sfido a dimostrare il contrario lo so che lo stanno dicendo persone che a malapena a c'è qualcuno che ancora segue quelle puttanate ma è una cosa che per correttezza va chiarita e la chiariranno ancora meglio in live domani sera sia Effenberg che l'avvocato Pier e se ci sarà che sono stati offesi tutti figurine poi dopo vedremo queste figurine cosa diranno domani sera va bene queste figurine le conosco io so io chi sono e poi dopo vedremo chi saranno queste figurine per quello che riguarda l'attaccante ragazzi l'attaccante secondo me l'Inter ha preso Buchanan no? Ok ottimo prospetto su cui ci puoi lavorare un po' come Bissec diciamo forse un po' più pronto di Bissec anche se Bissec sta facendo dei passi da gigante ma io rimango sempre della stessa idea Bissec lo vedo molto meglio in fase propositiva per ora in fase difensiva ma sicuramente eh da qui a fine anno crescerà ancora questo ragazzo a livello difensivo e più che non è un giocatore totalmente diverso è un attaccante esterno che ha provato a fare anche l'esterno basso eh è uno ci potrebbe far comodo bisogna vedere quanto è pronto bisogna vedere che livello è e questo lo sa solo l'allenatore quando lo avrà quando ce l'avrà sotto mano è sicuramente eh visto il costo visto e comunque non lo paghi perché più che non non paghi nulla subito è un pagherò anche lui hanno fatto benissimo a prenderlo però la priorità è l'attaccante e l'attaccante se non meno può arrivare a febbraio perché prima prima che capisce dov'è soprattutto anche in base alla nazionalità prima che entra un po' negli schemi degli allenatori si arriva a marzo quindi io ho fatto due nomi per l'attaccante a gennaio Gudmanson che lo sto facendo da un mese e Sanabria che ti ho detto ieri gente conosce già il campionato di Serie A ed è gente secondo me che ti potrebbe subito dare qualcosa non ti parlo dei titolari e sia Gudmanson che Sanabria sarebbero delle terze sarebbero due ottime terze punte per esempio perché sia Gudmanson che Sanabria non sto parlando eh di Holland o di Mbappé sto parlando di due ragazzi che sono in Serie A ma che secondo me potrebbero dare qualcosa da subito perché conoscono il campionato di Serie A hanno personalità stanno giocare a calcio l'avete visto Gudmanson l'altra sera no? E io spero che arrivi uno dei due anche se sono giocatori soprattutto Gudmanson che costano non so come possa l'Inter perché tanto questo è un mercato il mercato di gennaio è un mercato condotto dalla proprietà cinesi non c'è nessuno nessun arabo sta facendo il mercato a gennaio questo è un mercato gestito e condotto dall'Inter cinesi anche perché più che non non verrà pagato è un pagherò come sono stati tutti pagherò di questa estate la stessa cosa poi per l'amor di Dio te tu mi dici ma poi vanno pagati certo che vanno pagati ma ad oggi non costa nulla ecco perché è stata fatta l'operazione più che non più che non è un'operazione per il futuro che sicuramente si può rilevare importante ma non è un'operazione per l'immediato perché a noi ci serve un attaccante ciao vinti Grazie.